La polizia in mattinata presidiava a piazza Tahrir al Cairo nel timore di disordini in occasione del quinto anniversario della rivoluzione. È da qui che partì tutto quando decine di migliaia di giovani, richiamati dal tam-tam dei social network, iniziarono a riunirsi pacificamente fino alla repressione e agli spintoni sempre più energici che portarono alla caduta di Hosni Mubarak. Oggi il paese è di nuovo guidato da un uomo uscito dai ranghi dell'esercito, il maresciallo Abdel Fattah al-Sisi, che ha assunto la presidenza dopo la cacciata del governo guidato dai fratelli musulmani. L'Egitto oggi non è quello di ieri, stiamo costruendo insieme uno stato civile e moderno fondato sui valori della democrazia e della libertà, ha detto in un discorso televisivo alla viciglia dell'anniversario. Le esperienze democratiche non maturano dal giorno alla notte, ha comunque aggiunto al-Sisi nell'ambito dello stesso discorso. I delusi in effetti non sono pochi. La rivoluzione del 25 gennaio è stata un sogno meraviglioso che abbiamo purtroppo perso, speravamo in un Egitto migliore. E poi c'è la crisi economica, forse più grave di prima. Lavoravo ad Aswan, prima della rivoluzione il turismo andava benissimo, dopo è cambiato tutto, non c'era più lavoro, ho dovuto venire al Cairo per cercarlo, dice questo pescatore. Negli ultimi due anniversari, il terzo e il quarto, le manifestazioni organizzate dai fratelli musulmani finirono i scontri che avevano causato decine di vittime, 17 i morti lo scorso anno.